La contraccezione da sempre ha avuto una storia molto travagliata. Basti pensare che da quando è stata sintetizzata la prima pillola contraccettiva nella fine degli anni 50 negli Stati Uniti, di fatto è stata commercializzata in quanto tale soltanto nel 1960 negli Stati Uniti e soltanto nel 1976 in Italia. In Italia purtroppo il tema della contraccezione fatica a prendere piede. Da un'analisi dei dati europei risulta che il nostro paese è al 26esimo posto dei 45 paesi dell'Europa geografica in termini di sistemi contraccettivi moderni. Come valutiamo in questo momento l'accesso alla contraccezione? Intanto sulla base della possibilità di accedere a un metodo contraccettivo, alla possibilità di avere un buon counseling e alla possibilità di avere delle buone informazioni online. Sicuramente in Italia abbiamo a disposizione tutti i metodi contraccettivi moderni, ma se ne fa tutto sommato un sottoutilizzo. Credo che sia fondamentale ricordare che la contraccezione non è soltanto un diritto di salute, ma è stato sancito quale diritto umano dalle Nazioni Unite ormai alla fine degli anni 90, che auspicavano per il 2015, che tutti gli individui potessero accedere in maniera universale a metodi contraccettivi sicuri e moderni. Di fatto il panorama mondiale non è così, non è così quello italiano, dove soltanto un 30% delle donne, se vogliamo dare dei numeri, in questo momento assume la pillola. è importante pensare che la contraccezione non è solo pillola, come spesso si intende, in maniera, si intende, ma è anche un insieme di altri metodi contraccettivi, il cerotto, l'anello vaginale, i metodi contraccettivi a lunga durata d'azione, quindi la spirale, i dispositivi sottocutanei e non dobbiamo dimenticarci il preservativo come prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Credo sia fondamentale ricordare che non c'è un metodo contraccettivo migliore di un altro, è importante quando parliamo di contraccezione avere sempre in mente tutti i metodi contraccettivi, ricordando che la contraccezione non è un qualcosa di statico, è un qualcosa che deve accompagnare la donna dalla prima adolescenza fino alla menopausa e che si può fluidamente passare a seconda delle esigenze, a seconda delle diverse fasi della vita, a seconda di problematiche di salute che possono insorgere da un metodo all'altro.